Giuseppe Gelardi, capogruppo Lega del Consiglio regionale della Calabria, sottolinea l'importanza di un intervento governativo urgente per evitare la chiusura del porto di Gioia Tauro. Il 1 gennaio 2024 segnerà l'entrata in vigore della Direttiva dell'Unione Europea sul sistema di scambio delle quote di emissione per il settore marittimo. Secondo questa direttiva, la tassazione sarà calcolata non solo in base al tipo di nave, ma anche in base a distanza percorsa. In particolare sarà applicato uno sconto del 50% se lo scalo di partenza o destinazione si trova al di fuori dell'Unione Europea, mentre sarà applicata la tassazione completa se si tratta di porti comunitari. E quanto afferma Giuseppe Gelardi e aggiunge, questa nuova normativa ha già portato le compagnie di navigazione a pianificare l'attività di trasbordo container sulla sponda opposta del Mediterraneo, in Nord Africa. È fondamentale trovare una soluzione per salvare il porto di Gioia Tauro. Il governo deve intervenire tempestivamente per evitare il rischio di chiusura di questo importante scalo marittimo, per preservare l'occupazione e l'economia della regione. È necessario, dice sempre Gelardi, adottare misure efficaci per incentivare le compagnie di navigazione e mantenere le loro attività nel porto e per attrarre nuovi investimenti. La direttiva ETS per il settore marittimo è un passo importante, dice, verso la riduzione delle emissioni, ma è necessario garantire che le misure adottate non penalizzino eccessivamente i porti europei, compromettendo la loro competitività.